In Basilicata sono presenti 40 pozzi di cui 27 in produzione, mentre sono 10 i comuni interessati dalle attività estrattive. Sono alcuni dei dati illustrati a Vigiano nell'ambito della terza edizione di Eni in Basilicata, Local Report 2014, un bilancio di sostenibilità che illustra i risultati raggiunti e i progetti futuri nella regione, partendo dal sistema di monitoraggio ambientale. Una rete di monitoraggio all'avanguardia in Europa, abbiamo circa 8 punti per chilometro quadrato su 100 chilometri quadrati e monitoriamo costantemente tutte le matrici ambientali, lo fa l'Eni ma soprattutto lo fanno tutti gli organismi di controllo. Anche noi siamo d'accordo sul fatto che si può fare ancora di più, ma siamo in un campo di eccellenza. Il rapporto spiega che nel 2014 in totale gli occupati nel settore petrolifero in Basilicata sono 3.530, in aumento del 23,2% rispetto al 2013 e del 45,4% sul 2012, il 54% dei lavoratori dell'indotto e residente in Basilicata, dati però che non soddisfano gli amministratori dell'area. Più occupazione, più occupazione a tempo indeterminato si può fare, c'è tanta gente che viene da fuori regione per carità, ha diritto di lavorare, ma è il nostro territorio che paga i sacrifici e quindi è giusto che l'occupazione e che lo sviluppo rimanga nel nostro territorio. Leni, replica invece che... Noi abbiamo mantenuto e accresciuto i livelli di manodopera lucana in una vicenda ormai ultradecennale. La sfida vera è avere oggi un livello di attività tali da mantenere e incrementare il numero.